Ciao, sono Federica dal negozio OBI di Cassinidolo in provincia di Brescia. Oggi sono qui per parlarvi dell'idropittura lavabile traspirante Boero, ideale per decorare e proteggere tutti gli ambienti interni della nostra casa, muri e soffitti. Ha un buon potere coprente e un ottimo punto di bianco. La sua caratteristica principale? Un'elevata traspirabilità. L'idropittura Boero fai da te la puoi trovare in offerta a 39 euro e 90 centesimi fino al 21 febbraio in tutti i nostri negozi. Eccola qui. Per estendere l'idropittura si possono utilizzare o il pennello o il rullo. Il supporto deve essere liscio, pulito e asciutto, senza tracce di grasso o macchie di umidità. Vi ricordiamo che il prodotto va diluito. Basta aggiungere il 30% di acqua sia per la prima che per la seconda mano. La sua resa teorica per una mano di pittura è in circa di 168 metri quadri. L'essiccazione del prodotto al tatto avviene circa dopo un'ora. Per stendere la seconda mano bisogna attendere almeno sei ore. Un consiglio. Per le superfici nuove è bene eliminare spaccature e perfezioni utilizzando lo stucco ultra cremoso. Ed infine stendere una mano di fissativo isolante per muri. Invece per le superfici già pitturate è bene carteggiare o spazzolare le parti non aderenti o sfarinanti. Anche in questo caso si consiglia l'utilizzo di uno stucco per eliminare eventuali spaccature e imperfezioni ed infine stendere una mano di isolante fissativo per muri. E questo è tutto per l'idropitura traspirante lavabile Boero. Spero di esservi stata utile in questa spiegazione. Per ulteriori informazioni o per acquistarla potete venire a trovarci in negozio o consultare il sito obitrattinoitalia.it. E adesso è ora di fai da terra.